Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo Innocenti e sono qua nella mia solita postazione pronto per parlarvi di un nuovo film che ho visto al cinema. Prima però di parlarvi di questo film voglio ricordarvi che anche questa recensione è in collaborazione con Avanti Cinema, che non è nient'altro che una pagina Facebook ma anche un sito internet completamente dedicato al cinema. Voi andate a dare un'occhiata perché io vi lascio il link qui nelle info del video, andate a mettere un like alla pagina e gustatevi il sito. Detto questo oggi voglio parlarvi di un film, di un regista che io amo. Voi sicuramente saprete che io amo la commedia italiana e il cinema italiano, che io anche nella vita oltre a studiare per diventare attore sono anche un comico, quindi diciamo che questo regista a me fa sempre sognare da sempre uno dei registi italiani che più apprezzo. Lui e suo fratello sono dei pilastri della commedia italiana, sto parlando di Carlo ed Enrico Vanzina e oggi sono andato finalmente in sala a gustarmi il loro nuovo film. Con la regia di Carlo Vanzina e con Soggetto e sceneggiatura di Enrico Vanzina, sempre però con l'aiuto di Carlo, non sia mai, oggi sono andato a vedere il loro film nuovo, il nuovo film di Carlo Vanzina e cioè Caccia al Tesoro. Allora, come avrete sentito, io amo Carlo Vanzina. Carlo Vanzina per me è un pilastro, ripeto, della commedia. Segue i suoi film da quando sono piccolo, proprio all'elementare addirittura quando gli altri guardavano i film della Disney, io mi guardavo i film di Vanzina e i film di Neri Parenti, pur guardando anch'io i cartoni animati, ma diciamo sono sempre stati messi in secondo piano da me perché in primo piano c'erano sempre le belle commedie italiane. E Carlo Vanzina da anni e anni, cioè ci regala, ci regala sempre le migliori commedie, commedie semplici ma che ti fanno emozionare, che con semplicità ti regalano emozioni, divertimento e ti regalano veramente il buon umore, ti danno gioia e non c'è niente di più bello perché sono commedie che si basano sulla vita di tutti i giorni, alcune più realistiche, alcune più irrealistiche, ma è questo il bello del cinema, che riesce a farti sognare. Il cinema riesce a rendere vera qualsiasi cosa, anche quella più impensabile, quindi da una situazione semplice ci può sempre essere quella cosa comica, quell'espediente comico che nella vita vera sarebbe impensabile. Pensiamo a Fantozzi, alle cadute fantoziane, nella vita vera cadesse uno come Kate Fantozzi magari da un palazzo morirebbe, invece nei film, nei film comici è di grande effetto vedere certe scene perché fanno ridere e rende tutto vero il cinema, quindi anche i Vanzina adottano questo espediente e nella loro semplicità inseriscano anche degli espedienti comici che fanno sempre ridere seppur siano fiabeschi, seppur siano impossibili nella vita di tutti i giorni. Anche in questo nuovo film, cioè caccia al tesoro. La storia è semplicissima ma è una semplicità che regala emozioni, che regala divertimento perché questo film parla di Domenico Greco. Chi è Domenico Greco? Domenico Greco è un attore, un attore teatrale interpretato dal grandissimo Vincenzo Salemme che vive con la cognata alla quale è morto il marito, fratello di Domenico e quindi diciamo che Domenico è rimasto l'unico punto di riferimento maschile per suo nipote che ha 10 o 12 anni giù di lì ora non ricordo bene che è gravemente malato di cuore. Ovviamente per poterlo operare e poterlo salvare il nostro Domenico e ovviamente la madre hanno bisogno di 160.000 euro. Trovare 160.000 euro non è assolutamente facile, con questi soldi potrebbero portarlo in America e farlo operare per salvarlo. Quindi cosa decidono di fare? Visto che la carriera da attore di Domenico è proprio disastrosa, non c'è mai uno spettatore, ce n'è solo uno, c'è la prima scena iniziale del film, questo lo posso dire, dove abbiamo Domenico che praticamente interpreta l'Avaro di Molière in napoletano, proprio ha stravolto tutto e in sala abbiamo uno spettatore solo, quindi pensate un po' voi, ha un sacco di debiti, non paga l'affitto del teatro, quindi non ha soldi, figuriamoci per pagare l'operazione al cuore al suo nipote, al suo piccolo nipote. Quindi Domenico insieme a sua cognata interpretata dalla bravissima Serena Rossi, quindi lui e lei vanno nella chiesa lì a Napoli a pregare San Gennaro, vanno in chiesa a pregare San Gennaro per far sì di trovare questi soldi, proprio vanno lì, spiegano la situazione, proprio pregando ad alta voce, chiedendo un aiuto a San Gennaro, quindi loro due davanti a questa statua cominciano a pregare, cominciano a pregare dicendo noi sappiamo che sotto questo pavimento c'è la cripta con il tuo tesoro, il tesoro di San Gennaro, se solo, se anche solo la mitra, quella che San Gennaro tiene sulla testa, anche solo quella, cioè è così preziosa che potrei salvare mio nipote, che lei potrebbe salvare suo figlio, cioè non chiederemmo tanto, è solo un aiuto. Dacci la possibilità, dacci la possibilità e dall'alto si sente questa voce, una voce che dice loro andate, andate pure, sì sì sì, fate, 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 andate, andate, e loro ovviamente restano allibiti e subito dicono cavolo San Gennaro ci ha parlato, San Gennaro ci ha dato la possibilità di poter prendere la sua mitra per poter pagare l'operazione a mio nipote, per poter pagare l'operazione al bambino, quindi una cosa incredibile. E quindi da lì loro si sentiranno in dovere, si sentiranno proprio in dovere, perché comunque hanno avuto il benestare da San Gennaro di andare nella cripta e rubare la mitra, perché comunque egli l'aveva detto San Gennaro. Non saranno però, non saranno però solo, solo Vincenzo Salem e Serena Rossi a cercare di portare a termine questa malefatta, ma si unirà a loro anche Ferdinando, interpretato dal grandissimo Carlo Bucci Rosso, che anche lui stava pregando poco più lontano, sempre in chiesa, però lui pregava a bassa voce, comunque lui dice, potrebbe aver risposto anche a me San Gennaro, quindi anch'io mi voglio unire. Che dire, a loro si unirà poi anche un'altra coppia, formata da Cesare e Claudia, rispettivamente il grandissimo Max Tortora e Cristian Filangeri, perché anche loro sono due ladri che sono arrivati proprio da Roma a Napoli per rubare la mitra di San Gennaro. Ora però, senza dirvi altro, sarà stato davvero San Gennaro a parlare con loro? Veramente San Gennaro avrà fatto il miracolo parlando con loro e dando loro la possibilità di fare questo? Vi posso solo dire che questo film regalerà tante risate, questo film vi sorprenderà perché ha una regia bellissima, Carlo Vanzina a me sorprende sempre, perché ci sono degli scorci in questo film, delle inquadrature, vediamo proprio Napoli in tutta la sua bellezza, vediamo gli scorci, i monumenti, le strade di Napoli, questa regia chiara, limpida, bravissima, Enrico Vanzina, sceneggiatore che firma delle sceneggiature sempre divertenti, belle, attuali, perché in ogni film di Vanzina c'è comicità attuale, questa è proprio la vera commedia popolare che ci accompagna da lontano 83 con il capolavoro, Vacanze di Natale, il primis, il primo che ha dato il via al fantastico fenomeno del cinepanettone che io utilizzo sempre come termine positivo e mai negativo perché io lo amo e voi spero lo sappiate, da lì in poi i Vanzina hanno sempre continuato a regalarci la commedia popolare, la commedia vera, la commedia sana, la commedia che parla della gente di tutti i giorni, storie semplici ma che regalano tante emozioni, grazie al divertimento, grazie proprio alle battute sempre attuali, anche qua si ironizza sulla situazione dell'Italia attuale, sulla situazione calcistica attuale, sono film sempre attuali perché anche se questi film poi magari li rivedrete tra vent'anni quando ovviamente certo le cose che accadano ora non sono più attuali, cioè vi rimmergerete nel passato come se ora tipo io mi riguardassi Vacanze di Natale, in Vacanze di Natale rivedo l'epoca degli anni 80, rivedo tutta un'altra epoca ma è come se mi tuffassi in quel mondo e ne godessi appieno tutto il suo splendore perché la bellezza dei film di Vanzina è proprio questa, cioè i Vanzina rappresentano sempre epoche diverse e continuano a farci ridere e sognare dall'83 fino ad oggi, che poi dall'83, cosa dico dall'83? Perché comunque Vacanze di Natale è stato sì il primo cinepanettone perché è quello che ha dato la vita a tutto l'universo del cinepanettone, però ricordiamoci che Carlo Vanzina, Carlo ed Enrico Vanzina hanno cominciato a fare film nel 76 con il bellissimo Luna di Miele in tre con Renato Pozzetto, cioè è un grandissimo Massimo Boldi, quindi i Vanzina da anni ci regalano questi film, ora prima mi sono un attimo imbrogliato perché pensando al cinepanettone sono voluto partire dall'83 con Vacanze di Natale ma ovviamente Vanzina ci sono fortunatamente da prima, quindi io anche questo film l'ho adorato, è stato un altro bellissimo film perché in questo film si ride, questo è un film basato sulla commedia sia degli equivoci sulla commedia che omaggia la commedia di anni e anni fa, qui c'è un grandissimo omaggio a Dino Risi, a Operazione San Gennaro, quindi a dei pilastri della storia del cinema italiano come Dino Risi e così via, quindi questa è una cosa bellissima, nel film proprio viene citato testualmente cosa che fa sempre piacere ad un appassionato di cinema, i Vanzina hanno comunque omaggiato un grande regista, hanno omaggiato un grande film, ma non solo perché questo film è ricco di omaggi, perché omaggia alle meravigliose location dove il film è girato a partire da Napoli e poi questo film comunque non si limita solo a Napoli, in questo film per esempio ci spostiamo anche a Cannes che meraviglia, cioè vediamo anche dove viene proprio fatta la festa del cinema di Cannes, ci sono delle inquadrature ripeto bellissime, dei panorami meravigliosi, grandi fratelli Vanzina, grande Carlo Vanzina, perché è un regista che ripeto io veramente adoro, ho avuto la fortuna di conoscerlo, cioè certo lui non si ricorderà mai di me, però sul set di Sapore di Te proprio io lo conobbi perché andai un giorno per conoscerlo proprio sul set a Pietrasanta di Sapore di Te e potei stringergli la mano, farci una foto insieme per me fu un onore incredibile, non beccai Enrico però Carlo Vanzina sì, quindi ovviamente ripeto il film è girato a Napoli, è girato a Cannes e è girato anche a Torino perché i nostri protagonisti si ritroveranno anche a Torino, perché si ritroveranno a Torino non ve lo posso dire però si ritroveranno a Torino per questioni di forza maggiore, ci sono delle scene comiche a Torino anche con Max Tortora incredibili che veramente mi hanno divertito tantissimo, comunque poi ne parlerò nella parte spoiler. Ovviamente voi potreste dire sì ma è una trama un po' dai, fantastica, io ripeto sono cose che nella vita vera non potrebbero mai essere vere però la bellezza di questi film è che riescono a rendere vera qualsiasi cosa, quindi si parte da una cosa magari possibile perché in quanti ladri ci sono che rubano, che si intromettano nei posti per rubare anche nei luoghi di culto, nelle chiese e così via, però poi ovviamente ci sono delle situazioni da commedia proprio tipica, popolare e io spero che di questi film nescono ancora tanti perché questo è un film che diverte, che comunque fa anche riflettere perché i Vanzina riescono sempre a farti riflettere basandosi sull'attualità ma non solo e poi alla fine emoziona anche perché c'è una grande celebrazione della sceneggiata napoletana ma non solo, c'è anche un omaggio ad un celebre e importante cantautore napoletano cioè Pino Daniele che veramente fa venire i brividi, specialmente poi per i fan di Pino Daniele e anche per proprio i napoletani sono convinto che questo film regalerà grandi emozioni ovviamente a tutti ma ripeto per i napoletani in particolar modo ancora di più ne sono proprio convinto. I Vanzina già l'anno scorso mi sorpresero perché riuscirono a portare sul grande schermo due film solamente in un anno e cioè Miami Beach che per me fu divertentissimo, un altro bellissimo film dei fratelli Vanzina, Cineco Comero, commedia spensierata anche lì con Max Tortora proprio che mi divertì da morire proprio tantissimo e poi se non sbaglio Miami Beach uscì tra maggio e giugno, non ricordo bene, forse giugno ma non ricordo e poi a novembre proprio dello scorso anno quindi stesso periodo uscì il bellissimo Non si ruba a casa dei ladri sempre con Vincenzo Salemme, Stefania Rocca, Manuel Arcuri, Massimo Ghini che fu un film che ho anche recensito quindi se volete andate pure a vedere la mia recensione che mi sorprese tantissimo anche lì si parlava di ladri perché era proprio non si ruba a casa dei ladri bene o male anche in questo loro nuovo film si parla proprio di ladri caccia al tesoro che vi consiglio assolutamente sostenete il cinema italiano. Che dire questa volta non posso dire che spero che i fratelli Vanzina tornino sul grande schermo prima del 2018 perché ormai ci stiamo avvicinando il 2018. Per il 2017 hanno portato sul grande schermo un film solo ma va bene lo stesso perché alla fine tanto l'ultimo è uscito a novembre quindi c'è stato proprio un anno di distanza e questo va più che bene solitamente un regista fa un film ogni due anni e già tanto se c'è un regista che ne fa uno all'anno figuriamoci quando riescono a farne due però spero che per il 2018 ne arrivino altri due perché ovviamente io di questi film ne vedrei a bizzef, Vanzina a me non hanno mai deluso, i Vanzina sono dei mostri della commedia, per me sono dei grandi ve lo ripeto e anche questo film regala un divertimento assicurato perché la regia è ottima, la fotografia è bellissima, questo colore chiaro, limpido, questi scorci pazzeschi, panorami pazzeschi, girato in location splendide, Napoli, Torino, Cannes quindi andatela a vedere e poi comunque si ride, si riflette, Max Tortora è sempre un mito, io adoro Max Tortora, l'avevo apprezzato tantissimo anche nella coppia dei campioni, ultimo film che ho visto con Max Tortora dove lì con Boldi formavo una coppia eccezionale perché proprio mi ricordavano Boldi e De Sica quel film con una regia splendida, non me l'aspettavo che Giulio Base potesse portare sul grande schermo un film con una regia splendida perché veramente per essere un film italiano commerciale la coppia dei campioni per me ha avuto veramente una regia splendida e a differenza di tutti quelli che ne parlano male io non mi vergogno a dire che mi divertì tantissimo e che per me fu un bellissimo film comico che omaggiava tanti film comici americani e che l'omaggiava proprio con lo stile inimitabile di Massimo Boldi e di Max Tortora che insieme formavano i nuovi proprio Boldi e De Sica perché veramente Max Tortora lì mi ha ricordato un sacco De Sica e sapendo che io ho una nostalgia matta di rivedere insieme Boldi e De Sica beh fui solo che contento quando andai in sala poi con il cameo simpaticissimo di Ceccherini quel film per me veramente mi divertì certo sono il primo a dire che Boldi senza De Sica e De Sica senza Boldi non riescono più a fare film all'altezza di quando erano insieme però ripeto seppur io continui a trovarli bellissimi a volte di più a volte di meno senza che però mi abbiano mai deluso riconosco che i tempi di Natale sul Nilo Natale in India Christmas in Slov Natale a Miami chi più ne ha più ne metta beh ormai sono un po' lontani e che bisognerebbe tornare un po' a quell'epoca lì e che bisognerebbe tornare a far film insieme quindi io spero 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 che prima o poi possano tornare insieme anche se ora non c'entra niente perché sto parlando di caccia al tesoro però lo sapete io quando chiacchiero comincio 3000 discorsi quindi vi dico che caccia al tesoro dovete andarla a vedere andatela a vedere al cinema o se quando guarderete questa recensione al cinema non ci sarà più compratevi il dvd noleggiatelo ma comunque guardatelo perché merita davvero questo film diverte fa riflettere belle location belle canzoni la colonna sonora che accompagna tutto il film mi è piaciuta tantissimo mi risuona ancora nella testa questa canzone proprio mi è piaciuta questa che poi che poi non è una canzone cantata è praticamente una melodia la melodia che accompagna tutto il film mi è piaciuta tantissimo da proprio l'idea del film che si sta vedendo un film comunque che 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 fa ridere e che ci porta a a entrare nella situazione di questa banda di questa banda scapestrata sembra un po la banda bassotti che che cerca di portare a termine questo furto a fin di bene ma che ci riuscirà non ve lo voglio dire perché il film lo dovete vedere assolutamente detto questo ragazzi io ora passo alla parte spoiler però prima di passare alla parte spoiler vi ricordo di andare a vedere anche gli altri miei video comici le altre mie recensioni di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto e di commentarmi qua per per dirmi qualsiasi cosa vogliate e poi ovviamente vi invito a proseguire nella parte spoiler solamente se avete visto il film perché se vedeste la parte spoiler senza aver visto il film ve lo rovinereste quindi andatevelo a vedere e poi tornate a vedere la mia parte spoiler tanto il video resta qui non vi preoccupate un saluto con la tromba e con l'imbuto e ora io passo alla parte spoiler viva caccia al tesoro per quanto riguarda la parte spoiler questo film proprio mi ha colpito perché ho adorato la trama una trama che con semplicità perché alla fine è semplice loro si rivolgono a san gennaio per avere questa grazia per avere il permesso di poter prendere dal suo tesoro dalla cripta la mitra proprio di san gennaio e proprio da questa storia semplice con con questa presunta voce che loro pensano sia di san gennaio che da loro il benestare comincia tutta la situazione quindi da questo presunto da questo presunto spunto iniziale da lì si forma tutta la vicenda che porterà i nostri protagonisti in mezzo a mille disavventure e in mezzo a questa folle questa folle speranza di recuperare la mitra di san gennaio per poter ovviamente salvare il piccolo nipote di domenico quindi da una storia semplice come solitamente vediamo nei film di manzina perché nei film di manzina possiamo vedere una storia d'amore una storia d'amicizia una storia comunque che viviamo noi tutti nella vita di tutti i giorni però una storia semplice che poi regala tante emozioni perché alla fine se ci pensate bene i film più belli sono proprio quelli semplici ci sono dei capolavori di film anche elaborati e così via ma quante volte ci troviamo a dei ci troviamo davanti a dei film semplicissimi ma che sono puramente dei capolavori cioè è una cosa pensiamo anche a shining shining è una trama semplicissima jack nicholson ora sto parlando di tutt'altro genere ovviamente jack nicholson viene assunto all'overlook hotel e stando lì comincia a andare fuori di testa e cerca di far fuori la famiglia sembra una cosa semplicissima ma se poi guardi quel film ti emozioni entri dentro il meccanismo è un film psicologico della madonna ed è una cosa meravigliosa cioè i film anche quando sembrano semplici non vuol dire che siano brutti o che non siano validi anzi ripeto molto spesso i veri capolavori sono sempre i film più semplici che partano da una cosa semplice che con semplicità ti aprono la mente in questo caso i fratelli vanzina firmano nuovamente un altro bellissimo film io poi ripeto adoro i loro film ovviamente io ve lo consiglio perché amo la commedia italiana perché per me valgono da morire spero che piacciono anche a voi e ovviamente se mi state seguendo nella parte spoiler sicuramente vi piaceranno perché sarete andati a vederlo spero che vi abbia colpito e ripeto da una cosa così naturale spontanea nasce tutta la situazione poi e quindi ho adorato vedere le rocambolesche avventure di domenico e di sua cognata che comunque rimangono sbalorditi quando sentano la voce di san gennaio che dà loro il benestare ma non era san gennaio ed è una trovata geniale divertente scoprire che fuori c'è un parcheggiatore abusivo che ovviamente faceva venire avanti andate andate faceva andare le macchine da parcheggiare le faceva venire nel parcheggio andate venite andate sì fate fate cioè era la voce del parcheggiatore abusivo che entrava dalla finestra proprio adiacente alla statua di san gennaio quindi una cosa geniale folle ma che diverte tantissimo perché loro si sentono proprio ora in dovere di farlo perché gliel'ha detto san gennaio poi ovviamente si aggiungerà ferdinando il mitico carlo bucci rosso che anche lui poi con l'arrivo anche di suo figlio simpaticissimo il ragazzino che interpreta il figlio questo ragazzotto in carne ma simpaticissimo davvero cominceranno a dar vita a questo piano e quindi si inizierà all'inizio dovranno cercare di trovare dei soldi per poter costruire il presunto cavallo di troia da portare dentro la chiesa perché poi almeno carlo bucci rosso stando dentro questa statua sarebbe uscito poi la notte per per aprire poi la porta agli altri che aspettavano fuori farli entrare e insomma questo era il loro piano iniziale poi però è bellissimo già arrivare lì perché vediamo intanto serena rossi che deve far finta di vendere quel quel negozio che era proprio in vendesi accanto al centro estetico lì dove facevano il solarium e così via e deve far finta di venderlo a dei a dei becchini per aprire uno un negozio di onoranze funebri abbiamo vincenzo salemme e carlo bucci rosso che fanno finta di essere fanno finta di essere proprio i fratelli che vorrebbero comprare questo negozio ovviamente fanno ciò per per far sì che il loro il loro vicino di negozio cioè quel l'uomo che lavora e solarium se la prenda e paghi lei per far sì di non vendere l'attività ai due finti fratelli becchini interpretati da salemme e da bucci rosso quindi cioè qui c'è proprio ogni stilema della commedia italiana l'equivoco e le situazioni paradossali e buffissime quindi lì riescono a prendere i primi 2500 euro se non sbaglio perché lui pur di non far vendere il negozio accanto alle onoranze funebri dice no no ti pago ti pago prendi 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 quindi con quei soldi si faranno poi costruire questa statua dove carlo bucci rosso ferdinando entrerà dentro però quando tutto sembra risolto perché arrivano nella cripta dopo un bellissimo maggio operazione san gennaio e proprio viene citata operazione san gennaio quando ovviamente vincenzo salemme per per mettere fuori uso telecamere corrente vuol mettere una tavolozza di legno nella presa proprio della corrente per farla saltare fra fra un meccanismo e l'altro per far saltare tutto omaggiando proprio operazione san gennaio quindi questa cosa già mi è piaciuta tantissimo e poi cominciano ad esserci i primi problemi quando loro arrivano nella cripta e trovano tutto sparito all'inizio pensano ma 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 è stato rubato tutto qualcuno ha rubato ha rubato tutto il tesoro prima di noi e nel frattempo li conosceranno cesare interpretato da max tortora con la sua compagna interpretata dalla bravissima christian filangeri e si scoprirà che anche loro sono due due presunti ladri che sono venuti apposta da roma per rubare il tesoro però tutti sono rimasti lì senza niente perché il tesoro non c'è però non è questione di altro furto il tesoro è stato spostato a torino per un per un diciamo per un periodo di tempo e quindi si trova in questo museo di torino dove a torino faranno delle visite guidate proprio per farlo vedere ai visitatori quindi è esposto in questo museo per un determinato periodo di tempo e loro sono costretti quindi ad andare a torino e c'è quella battuta ganzissima di quando si incontrano tutti alla stazione per andare a torino e c'è bucci rosso che fa ferdinando ma io non ci voglio andare a torino ma perché fa fa domenico perché il covo del traditore i guain fai il figliolo è divertentissimo quella c'è domanda da fanculo tutte e due e poi va bene vanno quindi ci sono molte battute sul calcio la situazione calcistica tornerà a farsi sentire anche dopo quando e quella è stata una delle scene più belle di tutto il film scoprono che il museo dove è custodito il tesoro di san gennaio quindi anche la mitra a torino è adiacente a questo studio legale dove c'è un avvocato dove c'è questo pezzo grosso che lavora per la juventus diciamo e quindi ovviamente i nostri compagni i nostri carlo bucci rosso vincenzo salemme cristian filangeri e max tortora dovranno andare da questo legale ovviamente cristian filangeri è rimasta nel museo e invece i nostri tre uomini devono andare dall'avvocato con una scusa e poi devono riuscire a capire stando dentro lo studio notarile di questo avvocato notario non ricordo bene stando lì dentro devono riuscire a capire dove poter poi nella notte fare il buco nel muro per passare dalla stanza lì del nostro pezzo grosso al museo e quindi con una scusa con la scusa buffissima di voler riportare i guain al napoli dopo che è passata la juventus i nostri tre si fingono fratelli con quella scena buffissima dove max tortora non riesce a fare il torinese non riesce a fare il napoletano e gli esce sempre il romano e dicono noi siamo venuti perché aurelio de laurentis ci ha mandato perché vuole che vuole che i guain torni al napoli e sarebbe disposto a pagare milioni di euro cioè è fantastica quella scena ma veramente cioè e quindi c'è quella scena buffissima e nel frattempo poi max tortora esce dalla stanza chiama cristian filangeri che comunque era al museo e gli dice batti sul muro batti sul muro per capire dove i due muri confinavano lui ci farà una x e dopo aver fatto questa x la notte loro sono pronti a entrare fare questo buco e passare da una parte all'altra però comunque i problemi continueranno sempre i problemi continueranno perché ci sono c'è comunque la vigilanza perché comunque poi sulle loro tracce sono anche i boss proprio di napoli questo boss con quell'attore di cui ora non ricordo il nome che mi piace un sacco che avevo già apprezzato nel bellissimo natale col boss che era uno proprio degli scagnozzi degli scagnozzi del boss interpretato da peppino di capri e quindi anche lui insieme alla sua banda è sulle tracce di è sulle tracce dei nostri compagni ovviamente è stato ingaggiato proprio dalla polizia di ritrovare loro e quindi i nostri compagni si ritroveranno a dover sfuggire alla camorra napoletana devono sfuggire poi alle guardie e poi troveranno altri ladri quelli che sembravano guardie giurate che stavano fuori dal museo per custodire il tesoro di san gennaio alla fine erano dei ladri infatti ruberanno la cripta però poi ovviamente avendo visto il film saprete anche voi che la nostra cristian filangeri quando ormai tutti sono disperati perché sanno che il colpo non è andato più a importo non è andata a finir bene si ricorda il nome dell'hotel dove dove comunque sostavano i tre rapinatori perché comunque cristian filangeri e uno dei tre rapinatori si erano già incontrati al bar e lei facendo cadere il caffè sulla scatola di fiammiferi che teneva lì sul bancone del bar il nostro rapinatori uno dei tre si ricorda il nome dell'hotel vanno a questo hotel vanno a questo hotel però purtroppo il nostro rapinatori dice no 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 ma non ce l'ho io la mitra ce l'hanno i miei amici e poi questo era un colpo su commissione a me hanno dato solo 5000 euro ce l'ha commissionato l'olandese questo questo artista che ora si trova a Cannes e quindi la mitra gliela stanno portando a lui e quindi loro sono costretti ad andare a Cannes e lì la regia a Cannes mi è piaciuta un sacco questi scorci ripeto meravigliosi proprio mi è piaciuta tantissimo e a Cannes riusciranno a trovare la 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 mitra nel frigorifero proprio di casa del nostro del nostro olandese e quando tutto sembra sia finito non dico bene perché ancora noi non sappiamo come è andata l'operazione al nipote di di Vincenzo Salemme però quando tutto sembra essere andato bene sono sulla spiaggia pronti a tornare via arriva proprio il bosca morrista che ovviamente riprende la mitra e ti fa ma che napoletano sei sei arrivato a rubare il tesoro di San Gennaro ed è bellissima la scena in cui Vincenzo Salemme spiega lui che l'ha rubato a fin di bene e quindi lì è bellissimo c'è poi quel buio e praticamente vediamo Vincenzo Salemme sul palcoscenico capiamo che sta raccontando la storia che lui stesso ha vissuto insieme ai suoi amici perché poi carlo bucci rosso sono diventati suoi amici e non solo cristian filangeri è diventata la sua fidanzata perché cristian filangeri ha visto in Vincenzo Salemme ora io sto parlando con i nomi degli attori ovviamente mi sto riferendo ai personaggi nota in lui un'importanza vera verso di lei perché solitamente lei dice tutti pensano a spogliarmi te invece mi hai vestito te mi hai coperto quando lei comunque si era strappata la maglia per far finta che l'olandese l'avesse l'avesse molestata e quindi lui sta raccontando la storia del loro vissuto di quest'operazione che hanno portato a termine il teatro questa volta è pieno questa volta è pieno e la gente applaude c'è chi si commuove hanno incassato se non sbaglio 170 mila euro una cosa del genere perché il boss aveva invitato tutte le famiglie a vedere questo spettacolo e per la prima volta il nostro Domenico Domenico Greco fa uno spettacolo dove il teatro è pieno ed è pungente ma allo stesso tempo coraggiosa la frase che il boss dice noi siamo uomini di malavita ma abbiamo cuore e quindi vediamo che con quei soldi loro sono pronti a portare in america il nipote per farlo operare e quindi questo questo finale mi è piaciuto un sacco perché poi vediamo che le cose vanno bene anche per per ferdinando che comunque viene perdonato dalla moglie muore un suo parente della florida che che lascia lui dei soldi lascia lui una casa quindi si trasferirà a lui con la moglie con il figlio in florida anche se lui non è tanto contento di aver dietro la moglie e poi c'è questo finale meraviglioso dove il nostro il nostro Domenico insieme a a sua cognata la bravissima Serena Rossi sono in chiesa per ringraziare San Gennaro nuovamente perché l'operazione al cuore del piccolo fortunatamente è andata benissimo il piccolo è tornato a stare bene e lì capiscono che e che che la voce non era di San Gennaro ma del del parcheggiatore abusivo che stava fuori dalla chiesa perché la finestra è sempre aperta loro escono e capiscono questa cosa ed è bellissimo il finale dove i due cognati sono fuori che finalmente vedono in faccia questo questo parcheggiatore abusivo che loro avevano scambiato proprio per San Gennaro l'avevano scambiato la sua voce per quella di San Gennaro e quindi Serena Rossi dice ma allora non era San Gennaro e lui fa chi lo sa anche e fa e fa quella metafora bellissimo della vita bellissima che la vita è un po come il teatro perché ci può essere finzione anche nella vita e quella voce comunque che è arrivata da fuori ha permesso loro ha permesso loro di di salvare loro nipote quindi non era San Gennaro ma alla fine è come se lo fosse stato perché alla fine quella voce lì di quel parcheggiatore abusivo ha permesso loro di andare incontro a quello che volevano fare e hanno salvato la vita ad un piccolo bambino quindi alla fine è stata una cosa bellissima il cerchio si è chiuso in maniera ottima ed è bellissimo quel finale in cui il parcheggiatore si leva il cappello e ha una aureola perché alla fine è nel modo più fantasioso possibile quella è stata una metafora che alla fine ok non era la voce di San Gennaro ma alla fine per loro lui è stato San Gennaro perché alla fine le ha fatto il miracolo quindi mi è piaciuta tantissimo questa cosa mi è piaciuta tantissimo davvero e poi c'è quel finale che omaggia Pino Daniele che è incredibile con la canzone bellissima Napola a millà colori e intanto si vede si vede Napoli gli scorci meravigliosi di Napoli i monumenti di Napoli e quindi questo finale amaro ma che omaggia un grande poeta che purtroppo se ne è andato troppo presto e che chiude il film i titoli di coda scorrono non con la con con canzoni allegre come c'erano fino ad allora ma con la voce splendida di Pino Daniele che chiude il film c'è una cosa meravigliosa quindi un applauso ai fratelli Vanzina che nuovamente che nuovamente dimostrano di essere dei miti io non vedo l'ora di vedere il loro prossimo film una cosa che ho apprezzato tanto in questo film quando Carlo Bucci Ross e Salem si punzecchiano sempre sul sulla recitazione perché Domenico vorrebbe che Ferdinando riconoscesse che lui è un bravo attore e c'è quella scena in cui in cui parlano della presunta possibilità di Domenico di lavorare in un film di Sorrentino e Ferdinando dice se Sorrentino ti chiamasse sarebbe il suo primo flop e questa cosa mi è sembrata buffa perché in realtà proprio lui che dice se Sorrentino ti chiamasse sarebbe il suo primo flop al cinema e proprio Carlo Bucci Rosso che ha lavorato veramente in quel capolavoro della grande bellezza con Paolo Sorrentino quindi questa cosa mi è piaciuta sono piccoli omaggi che vediamo in tutto il film quindi che dire ragazzi fatemi sapere anche la vostra e io vi saluto viva caccia al tesoro